Ragazzi, non so se avete presente il video, quello dove c'è Peter Griffin che dice Momento, 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 momento Ecco, questo è il mood attuale Perché ragazzi, sono nella stessa situazione di quando arrivo a Vlaovic Più o meno la stessa situazione Sembrava, oddio che casca tutto, sta cascando di tutto Scusate se sono così citato, ma quando succedono queste cose io mi gaso e non poco Però ragazzoli, prima di partire, prima di partire, prima di partire Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e ditemi la vostra Ragazzi, Giuntoli è un pazzo Giuntoli ha deciso che in questo calciomercato L'aveva detto che se ci sarebbero state occasioni La Juventus avrebbe provato a prendere Fermi Perché Samarzic Samarzic Pare Che la Juventus ci stia pensando veramente Per adesso o per giugno Per praticamente bloccarlo adesso per poi prenderlo a giugno Oppure prenderlo direttamente adesso Perché appunto con il Napoli l'accordo Il calciatore o il padre non si è ben capito Non è stato trovato In ogni caso Samarzic potrebbe Veramente arrivare alla Juventus E Prima di Ci sono tante cose Troppe cose da dire su questo giocatore Perché è un giocatore che a me fa impazzire È un giocatore che a me è sempre piaciuto È uno dei migliori prospetti in Serie A È un centrocampista che servirebbe Alla Juventus È un centrocampista che servirebbe Per la verità A grandissime A quasi tutte le squadre di Serie A È quel giocatore che secondo me Ti farebbe fare quel salto di qualità Al centrocampo Perché ti dà quella qualità Che Purtroppo Un Fagioli Adesso squalificato Ti poteva dare Ma tu adesso non ce l'hai appunto Perché Fagioli è stato squalificato In ogni caso Samarzic Potrebbe arrivare alla Juventus Con un contratto di 3 milioni e mezzo A stagione Ragazzi se succede Se succede Ragazzi miei Scusate se continuerò a dirlo Ma è tanta 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 Ma tanta roba E adesso poi sarà tutto da capire cosa succederà È una situazione pienamente in sviluppo Non si sa ancora nulla Ne aveva parlato ieri di Marzio E il Corriere dello Sport stamattina E oggi è stato confermato anche da Gresti Uno dei più grandi Il più grande giornalista Secondo me Per quanto riguarda il mondo della Juventus Cioè quando parla a Gresti Principalmente È vera la cosa Ieri è stato appunto anticipato Da Di Marzi Dove ha detto che il Napoli non aveva ancora concluso l'affare Samarzic Era interessato Ma non avevano ancora trovato l'accordo La Juventus rimaneva ancora Lì Era lì Era lì che fiutava il colpo Per vedere se c'era questa possibilità E alla fine appare veramente che c'è Questa possibilità c'è È veramente concreta l'opzione È veramente concreta La possibilità che Dragos Che Samarzic possa Venire a vestire nuovamente il bianco e nero Perché passerebbe da un bianco e nero all'altro Ragazzi Qua c'è da dire Samarzic è il giocatore che io volevo Il giocatore perfetto per la Juventus È il giocatore che io ho detto Se dovessi scegliere un centrocampista Lasciamo stare i Philips Lasciamo stare questi Giocatori che vogliono mettersi un mossa sulla piazza Che vogliono dimostrare il loro valore E chi più di Samarzic può fare questa cosa Chi più di Samarzic Chi Samarzic è il giocatore Il prototipo di giocatore perfetto Quel giocatore Quella mezzala Che può farti anche il trequartista È un giocatore che ti dà la qualità È un giocatore che ti dà la fantasia È un giocatore che ti può fare Ti può far fare quel salto di qualità definitivo In mezzo al campo Ti aggiunge quella qualità che ti manca E dopo tutto da capire Anche cosa succederà con Nicolussi Anche tutto da capire Con chi è che c'è Perché se dovesse arrivare Samarzic I tasselli iniziano a essere veramente tanti È vero che anche Miretti Anche con Miretti banalmente Cosa si fa con Miretti? Va via? Resta? Non si sa Non si sa effettivamente nulla Non si sa veramente nulla Questa è la parte brava del calcio mercato Vi giuro Sto provando le stesse sensazioni Le stesse emozioni Di quando arrivò Vlaovic Alla Juventus È tutto calmo Tutto tranquillo Poi a un certo punto Boom 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 Naturalmente con le dovute proporzioni Perché Vlaovic arrivò a due giorni Tre giorni Dalla chiusura del calcio mercato Qua siamo ancora all'inizio Però diciamo che Dare una scossa all'ambiente Portando Samarzic a Torino Quel Samarzic Un centrocampista Un signor centrocampista Insieme ad Alò Di Alò Sarebbe un qualcosa di clamoroso Giuntoli l'ha detto prima L'aveva fra virgolette Fatto capire Se ci sarebbero state le condizioni La Juventus avrebbe provato A prendere qualcuno E così è stato E così è stato O meglio Con De Alò O quanto meno Dovrebbe ancora Perché l'ha detto anche ieri Fabrizio Romano Here we go Fra poco Non è ancora tutto fatto Però è molto molto vicino Tanto così Tanto così Tanto così Perciò ecco Samarzic invece Se dovesse veramente venire Mi caserei tantissimo Perché è quel giocatore Che ci serve Perché è inutile andare A prendere i Phillips Che vengono magari sei mesi Sei mesi A far che cosa? A svernare A mettersi in mostra Per provare poi Andare all'europeo Capisci? No Io volevo E voglio che la Juventus Prenda giocatori fatti Giocatori pronti Giocatori che Comunque in rampa di lancio Che vogliono mettersi in gioco Che vogliono esprimere Le loro qualità Ragazzi Io sono Sono assolutamente contento Sono gasatissimo Non so quanto possa costare Il cartino di Samarzic Adesso Anche perché L'udinese Deve Deve Tutelarsi Diciamo Perché È in una situazione Di classifica Dove Deve 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 Cercare di Ottenere la salvezza Anche se sicuramente È migliorata la situazione Non di molto Ma è migliorata Ragazzi Ragazzi miei Io Se dovesse venire Samarzic Vado Alle visite mediche Voglio andare Ad accogliere Le visite mediche Ma naturalmente È ancora lunga la cosa Questa è una piccola promessa Che faccio Voglio andare Assolutamente Perché voglio Voglio dargli il benvenuto Scherzo Non lo so Se ci andrò mai Però devo vedere Dai Vedrò Vedrò se riuscirò ad andare In ogni caso Ragazzoli miei Samarzic Speriamo un po' Se riprendersi Anche perché C'è l'Alfanta E che cavolo E che cavolo C'è l'Alfanta L'ho pagato tantissimo Sta facendo malino All'Udinese Dopo Cioè È così Io quando prendo i giocatori Questi qua Vanno via Vengono accostati All'Juventus Vedi Dragos Inceleva l'Alfanta È andato al Tottenham Uno dei pochi Che mi stava facendo bene In difesa Adesso dovrò sopperire Alla sua mancanza Alla sua assenza E lì Sarà tosta Ultima questione Di Samarzic Penso che Samarzic Si possa Tranquillamente Riassumere Nel gol che ha fatto Contro il Napoli Un gol dove C'è tutto Tecnica Controllo Ambizione Voglia di mettersi In gioco Estro Fantasia Samarzic Allora Io ti voglio bene Se verrai mai Sarò ben contento Di averti Ma veramente Credimi Io La 24 libera Guarda La 24 libera Dai Mi raccomando ragazzuoli Ditemi la vostra Vi piace Samarzic Non vi piace Samarzic Ditemi la vostra Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale E Preghiamo insieme ragazzuoli Ci vediamo nel prossimo video Ciao